Ciao ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di The Sims 4 stagioni e siamo tornati dalla famiglia Lothario, trattino Richards in realtà allora volevo farvi vedere subito una cosa, nel calendario come vi avevo detto da ora in poi le stagioni saranno di 14 giorni così ce le potremo godere anche un po' di più in questo caso siamo entrati nell'autunno quindi abbiamo ricominciato, qui c'è un tempo misterioso ad oro e il giovedì sarà il compleanno della nostra piccola Evelyn e della nostra Janine Richards quindi sicuramente credo che lo farò il compleanno della piccola e ovviamente essendo di 14 giorni vorrei mettere magari il sabato qui l'evento di Halloween così da vedere anche questa nuova cosa allora, oddio Don Lothario, ah è vero perché Don Lothario è un medico allora ragazzi, infatti la carriera di medico, di scienziato e di poliziotto praticamente è stata giunta con la prima espansione che è The Sims 4 lavoro e diciamo che Don Lothario per me fin dai tempi di The Sims 2 è sempre stato un medico quindi ho voluto rimettergli questa carriera ora ovviamente non è che l'andremo a vedere nello specifico però oggi magari un po' potremo giocarci ovviamente all'orientamento clinico che dovremo conoscere un po' i nostri colleghi fare un po' di cosine allora saluta tre pazienti e saluta tre colleghi andiamo a presentarci con i nostri colleghi che non so quali siano sono personaggi, credo, sì, Ritvik Ramesh adoro quindi presentiamoci con loro e poi andremo anche a salutare i pazienti e bere anche una tazza di caffè nel frattempo lei la voglio far socializzare con... se c'è... non c'è Elisa Pancake, porca miseria Mitchell Calani, Zoe Patel, Arthur Klymate ma io recupererei forse un po' Johnny Zest, non lo so no dai andiamo con Mitchell Calani allora dicevo, io... ah ecco perché Elisa Pancake è qui in realtà quindi... ci stiamo presentando? sì, ok, quindi andiamo subito a presentarci anche con Elisa Pancake perché ragazzi? perché... ah no chiedi della sua giornata, magari funziona lo stesso perché la nostra... la piccola... la piccola pancake è cresciuta ragazzi è diventata una bebè appunto come la nostra... un toddler come la nostra Evelyn quindi potrebbero crescere insieme dato che il cuginetto o la cuginetta in realtà sarà più piccola nel senso che noi diventeremo bambine e lei starà nascendo praticamente allora presentiamoci, presentazione amichevole dovremmo chiacchierare perché salutare i pazienti significa presentarsi proprio benissimo e dobbiamo chiacchierare con i nostri colleghi quindi vieni qui e rallegra tipo... ok abbiamo conosciuto... ah è lui che viene sempre da noi bravo non ci fa fare neanche un po' il giro qui c'è la Feng e io direi di presentarci perché dobbiamo salutare tre pazienti per l'appunto chiedi della sua giornata a un collega visto che ti trovi facciamolo subito chiedi della sua giornata e poi ci presentiamo la Feng presentazione amichevole molto bene vai caro chiacchiera con i colleghi due volte guarda guarda ce l'è qua un collega Masato Tanaka Tanaka ma perché ci sono tutti questi nomi e cognomi giapponesi, cinesi semplicemente saluta tre pazienti e dai ok ha chiacchierato dov'è l'altro paziente? discuti di lavoro con un collega ce l'è lì, ce l'è lì, ce l'è lì io ovviamente ora non è che vi voglio far vedere tutta la giornata di lavoro però più o meno all'inizio discuti di lavoro all'inizio la carriera di medico è più così poi si inizia proprio a dover curare i pazienti e diventa anche molto più interessante dobbiamo che cosa? eh, chiacchiala con i colleghi e dal e vabbè spettacola sulle relazioni al lavoro e poi vieni qua e rallegra chiacchiala con i colleghi ora vedrete no è sempre lui che viene da noi ed è flertante tesoro dollotario lo so che attira però ora direi proprio che non è il caso lamentati di lavoro con un collega ma c'è una paziente sembrano i nostri medici italiani che mentre visitano parlano dei fatti loro lamentati del tempo numero eccolo qua ritmi mini ramesh colleghi conoscenti sì ok eeeh andiamo a bere una tazza di caffè chiacchiera con i colleghi niente ragazzi oggi dobbiamo fare amicizia con i colleghi tutto a posto spettacola sui colleghi e beh e continuiamo a farlo tanto almeno facciamo loro qui e poi magari la la giornata di lavoro la finisco io basta allora io non voglio parlare con i ooooh allora innanzitutto presentiamoci qua con un paziente c'è Johnny Zest che già lo conosciamo no presentazione amichevole ma lei può socializzare con oh guardate come è aumentato Joaquin Le Chien dai ci sta che è il fidanzato di così facciamo tre ok oro allora io dire oh qua c'è Bob Pancake io voglio assolutamente presentazione amichevole perché al matrimonio non c'erano i pancake ho fatto venire i climate in realtà consegna il cibo per esempio al lettino e lo consegniamo proprio alla nostra mi sa che i pancake non stanno molto bene a casa se è sparso oh mettiamo una pausa perché devo fare una fotina adoro vieni più avanti adoro bellissima grazie abbiamo fatto la foto e direi che termino la giornata da solo e ci rivediamo a casa eccoci tornati a casa allora come potete vedere Don Lotario ha guadagnato 188 simoleon praticamente nulla oh ma che carina la nostra la nostra Evelyn sta venendo a salutare il papino amore ciao ciao papà bentornato da lavoro ciao amore quanto è bella parla del giorno e insegna i bisogni essenziali insegna a parlare un pochino dai visto che ti trovi allora la nostra Janine nel frattempo niente qua stanno mangiando si oddio dovrebbero fare il bagno stringe amicizie con 5 animali correggi due cattivi comportamenti ma si può vieni a sederti animale da instagram da simstagram a carezza e io in realtà che problema c'è vediamo mi sa che è malato nel frattempo noi stiamo insegnando oh Don Lotario con la genitorialità pari a uno oh guardate chi ci è venuto a trovare lo zio adoro allora scusa invito a entrare dai c'è tuo fratello dai così parliamo con ciao ah non sono andati in luna di miele ragazzi in tutto questo qua c'è una merda adoro le cacche dei cani allora io ho una cosa che devo dire riguardante gli animali è proprio questa nel senso che mi piacciono tantissimo guarda Don chiedi Don da bere oh c'hai fame amore no non hai proprio tantissima fame dicevo mi piacciono tantissimo l'unico problema degli animali secondo me è che stanno sempre male cioè nel senso bisogna portarli al veterinario un giorno si e l'altro pure ah usa il vasino vedi si può fare ma noi potremmo chiedere anche allo zio no non potevamo chiederlo allo zio ok allora con la nostra Evelyn che essendo indipendente anche col numero con livello 1 di vasino possiamo andare da soli sul vasino tra l'altro lei tutta viola adoro e credo ragazzi fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate credo che per lei terrò il look del nuovo aggiornamento quello dei caraibi o si chiama erano dei caraibi si di cuba la quelli cubani i nuovi capelli quelli un po' ricci corti mi piacciono troppo e credo che quando lei diventerà grande gli metterò quel tipo di capelli adoro lei sul vasino ma quella che fa gianin dorme oddio se stanno addormentati tutti qua oh no ma no ma dai chi dice la carriera parla con tuo cognato aneddoto divertente rallegra impara a conoscere lei dorme ma perché dormono ma no lei è ancora sul vasino ah ma tutto a posto insomma allora 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 io volevo fare una cosa volevo aggiungere il seggiolone dato che qui c'è lo spazio quindi dobbiamo andare qui per i bambini oddio ma lo trovo qua si lo trovo e dovrebbe esserci questo qui marrone lo mettiamo nero ovviamente nero si adoro e oddio lei è affamata infatti prendi una porzione ah bene puoi mangiare da sola mi sei piaciuta da questo punto di vista mi sei proprio piaciuta ha preso che Gavin è giornalista e alla seconda pagina voilà abbiamo fatto cacchina con la nostra Evelyn ok tesoro forse dovresti dare il cibo ad Evelyn e gli diamo dei biscotti a forma di animale si lo so amore che sei affamata ok e ora eccoti qua ti prendo e ti metto nel seggiolone così ma sperando che mangia tranquilla mangia vai te c'hai fame mangia di sta cosa così mangi con tua figlia oh ma don lottario sarà pure evasivo ma è un ottimo papino ci piace adoro yeee giochiamo con i biscotti certo mi sembra giusto poi dice che c'ha fame te credo e lui c'ha sonno è solo le otto don lottario madonna allora veniamo qua e possiamo leggere Evelyn per far addormentare perché tanto anche lei c'ha sonno molto bene si puoi pulire lo zio non ce lo siamo cagati proprio di striscio ragazzi ma va bene cosa l'abbiamo fatto entrare a fare non si sa ora devo proprio andare giustamente anche lui si è accorto di essere inutile il nostro Gavin zazza ha messo il pigiamino sempre sugli stessi toni e ora ci sediamo ah lui si siede a bordo del letto non so perché è in costume tra l'altro fa caldo e leggiamoli una bella favoletta che carini sono troppo bellini don lottario amore un papà perfetto praticamente ragazzi bellino lei deve solo dormire quindi benissimo e tesoro ti puoi finalmente perché per il lavoro ragazzi bisogna sarebbe stato anche promosso ma bisogna trascorrere due giornate attive al lavoro quindi magari la seconda giornata la farò io tranquillamente una giornata attiva lei ah lei sta molto meglio allora tesoro con te con te innanzitutto ripuliamo io vorrei fare l'amicizia con Eliza Pancake perché vi dicevo la vorrei andare a trovare dato che c'ha la bambina Simone che è cresciuta così ve la faccio anche un attimo vedere perché appunto ci sono anche le gemelline tra l'altro ma lui sta malissimo chiedi di andare a fare i suoi bisogni secondo me va solo lavato e dovrei mettere una vasca a questo punto perché sopra c'è solo la doccia eh sì ecco anche questa cosa che gli animali si devono lavare ogni tre per due ragazzi non va assolutamente bene allora io riempirei questa ciotola riempi tutte le ciotole sì sì assolutamente e poi vieni qua e socializziamo un po' chatta con Eliza Pancake eccola cool sì perché ragazzi i Pancake non lo so secondo me noi della community di The Sims 4 di The Sims in generale li sottovalutiamo un po' secondo me sono una famiglia molto ganza ma vedete che c'hanno tutti e due praticamente le pulci allora vediamo un attimo sì stiamo crescendo io devo comprare una vasca ragazzi e basta e ce li abbiamo i soldi quindi la compriamo una bella vasca ma io comprerei anche questa perché la vorrei mettere tipo in giardino per lavare i cani a me piacerebbe tantissimo tipo una pompa avete presente la pompa quella per per innaffiare ecco una cosa del gioco oppure sul no ma qui è affogato no non mi piace qui oddio senti io la metto la metto qui toh fottuti proprio la metto qui proprio un po' nascosta così e ah lui perché oddio lei si è svegliata ma why mettiti a dormire lui invece si è appena svegliato allora caro dato che Rex è tuo io direi che ti puoi diciamo occupare un attimo degli animali anche allora fai un bagno a Evelyn no fai no ok io voglio gli animali allora vieni qui vai qui e chiama i due cagnolini no no devi andare qui prima vai qui ce la facciamo voi fatemi sapere anche nei commenti come gestite gli animali tra l'altro ho scoperto ragazzi fai un bagno fai un bagno ah ecco a Rex ho scoperto ragazzi che Rex in realtà è una cagnolona è una cagna femmina adoro adorissimo cioè Rex che è il pastore tedesco super maschio dovrebbe essere e invece è donna e vabbè che ci possiamo fa non è che mi posso inventare i sessi nel senso in realtà lo potevo mettere il sesso maschile ma ovviamente non ci ho fatto proprio conto benissimo laviamo lui e poi laviamo anche Ice vai forza lava anche Ice guardate che pelo lucido adesso andiamo a prenderci Ice dai zan 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 correndo ah lui lo prende in braccio direttamente dice tesoro vieni così facciamo veloce veloce vai un bagnetto anche per lui e siccome la nostra Evelyn ancora dorme lei sta proprio dormendo così molto bene io direi che ne possiamo approfittare e dormiamo un po' allora diciamo che è un altro giorno perché loro avevano praticamente sonno quindi li ho fatti andare tutti a dormire ora Don Lotario è andato a lavoro ragazzi non vi volevo appioppare un'altra giornata di lavoro nello studio medico dato che in questo episodio l'abbiamo già vista poi la giornata appunto attiva la farò io senza di voi così non ve la dovete subire diciamo e siccome c'è ancora un po' di tempo perché abbiamo passato più o meno un quarto d'ora insieme volevo allora innanzitutto dai cibo ad Evelyn gli diamo dei cereali dato che è mattina andiamo a prendere eh sì mettiamo Evelyn nel sì grazie comunque Evelyn è fortunata ha dei genitori pazzeschi se ne occupano veramente bene oh guardate Rex ciao Rex e Ice sul sul coso sul divano dicevo volevo andare con la nostra Evelyn dato che Janine non lavora volevo andare a casa di Pancake così da cercare di far conoscere la nostra piccola Evelyn con Simone così ve la faccio vedere come vi avevo detto tra l'altro ragazzi nei commenti non vi dimenticate di scrivermi i nomi per quanto riguarda il figlio o la figlia dei Richards di Gavin e Zoe Patel ricordatevi ho chiesto dei nomi americani in realtà perché con Richards secondo me ci sta bene allora tu ti puoi cambiare cos'è oggi è un po' caldino anzi è molto caldo cambia abito e ti metti proprio i vestiti della temperatura calda perché rovente addirittura e anche la nostra Evelyn Evelyn sta benissimo quindi io direi che essendo le 10 guarda dai una bevanda altre scelte cura del bebè cambia abito gli mettiamo anche lei quello degli abiti caldi ti cambio subito voilà sempre sui toni del rosa e direi che possiamo viaggiare con la nostra no che è Liza con la nostra Evelyn viaggiamo e andiamo a casa di Pancake ragazzi e ci scommettiamo che a Oasis no questo è Oasis Springs quindi a Sunset Valley pioverà secondo me piove ragazzi sicuro meno male che andiamo a casa di Pancake che abitano qui e tra l'altro ragazzi c'hanno una casetta che io ho scaricato dalla galleria credo forse non mi ricordo se in questa partita c'hanno una casa scaricata dalla galleria o l'ho modificata io non mi ricordo e ora andremo a vedere subiti ed eccoci arrivati qui c'è Bob Pancake che noi andiamo a presentarci oddio perché c'hanno le decorazioni dell'amore qua no anche qui comunque è nuvolo è nuvoloso bussiamo alla porta perché voglio vedere subito la nostra piccola Simone dove va Evelyn Evelyn dove stai andando ma dove va entra pure eccoci qua e andiamo alla ricerca di ah no no è una casa mi sa si scaricata ragazzi dov'è eccola oddio che belle queste sono scene proprio belle cioè loro sono sul balcone la nostra Eliza Pancake guardate con Simone Pancake Parla con il sim estraneo con la nostra piccola Evelyn vediamo andiamo 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 così uh stava cadendo velocizzo un po' zazza 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 vai vai così giocate insieme alla casa ah non può salire forse senti mamma mi porti su ah no mi ha cambiato il pannolino mamma molto bene allora facciamo una cosa prendi in braccio e la portiamo eccola la nostra Simone allora le hai presa in braccio portala qui metti Evelyn qui secondo me le fa il bagno forse ok allora la nostra piccola Simone ve la volevo far vedere ha preso i colori e i capelli praticamente della mamma che ha i capelli arancioni e invece il colore della pelle è più di Bob quindi è un po' mulattina quindi dei colori abbastanza eccole oddio comunque sono vestiti uguali ragazzi cioè guardate la so guarda metto pausa per farvi vedere c'è giallo giallo arancione arancione e loro col rosa favola ecco si sono presentate ciao io sono Evelyn parla con il sim estraneo loro diventeranno non con lei con lei parla con il sim estraneo vai ciao e tu sei una bambina come me però hai capelli arancioni ciao altre scelte amichevole no ma che arrivederci parliamo sempre con il sim estraneo va bene parliamoci sempre lei sta parlando dei colori adoro parla con il sim estraneo si ragazzi bisogna fare amicizia tra queste due bambine quanto sono belle amori ciao lei dov'è? è qui allora io direi che te potresti guardarti un film con con Bob Pancake perché e poi magari ti presenti anche no Elisa sta qua complimento sincero parla con lei perché loro diventeranno mamme amiche praticamente e diciamo che questa questa amicizia gliel'ha consigliata la cognata che appunto dice guarda i miei vicini hanno una bimba che è grande quanto la tua quindi perché non giocarci insieme conoscerli oh guardate amori gioca con Simone esatto livello superiore anche dell'abilità di movimento guardate cioè lei è andata a prendere il giocattolino e lei ne prende un altro e io prendo questo giochiamo insieme amori quanto sono belle io adoro i toddler ora non sono abituato a fare queste cose però in questo caso mi sono cresciute insieme quindi assolutamente amiche decisamente loro se guardano in firma con tanto di divani se lo guardano in piedi vabbè tutto a posto quindi niente ragazzi io direi avete visto che sta piovendo alla fine no vabbè comunque non bisogna mai andare in giro quando da noi non piove dalle altre parti praticamente piove e niente ragazzi io con questo con questa bellissima immagine di queste due bambine che stanno giocando insieme anche se sono di spalle vi lascio e vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere un mi piace a questo video di condividere questo video così da farlo conoscere anche i vostri amici e nulla ragazzi commentate 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 vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti